Al maschio angioino, il celebre scrittore franco marocchino Tahar Benjellun ha tenuto una lezione sulla pittura di Ettore De Concilis, artista irpino, le cui tele sono attualmente esposte nella cappella palatina del castello. Il è un artista molto moderno e molto classico. E' un artista che è preoccupato per la bellezza dei sogni, la bellezza della natura e i misteri del sogno. Perché tutte le toile non sono realistiche, ma non ci rappelano il reale. Il c'è un decalaggio tra la realtà e quello che fa lui. E questo è un decalaggio che è interessante per l'artista. Il non va rappresentare, non va fotografare la realtà. Il la transcende, il la refa a sua forma. E' questo è quello che fa che è moderne. Perché il va allò delà di ciò che vediamo. Perché ciò che vediamo, ciò che vediamo, è trasformato per l'immaginario dell'artista. Noi vogliamo aprirci al bene comune e aprirci al mondo e considerare le persone tutte diverse e che dovrebbero essere tutte uguali. Secondo me il messaggio del poeta e dello scrittore è assolutamente al mondo con questa mostra. Penso al mare, penso a Napoli, città aperta, non solo perché ha il mare ma perché ha un cuore grande. E penso al messaggio che lei maestro ha sempre dato contro ogni forma di razzismo e di discriminazione. E' un discorso molto coraggioso, aperto e generoso e soprattutto di matrice europea. E soprattutto in questo momento in cui c'è una vera complessità, un problema. C'è bene che un uomo politico, come lui, dice delle cose clare. E non è in questa ville particolare, che è la ville di un'uverture, la ville di un'uverture, la ville di un'uverture del mondo. E in questo momento storico è particolarmente importante che un personaggio come lui, che è sindaco di una città aperta, e che ha delle cose che sono assolutamente collegate con l'apertura della città al mondo. Voglio ringraziarlo e fargli un buon coraggio per il seguito.